Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio By Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato 800 039 036 La musica è la vita! This is the voice of your night. Radio Radio By Night Roma 104 e 5 FM. Let's begin, let's begin. Ci siamo, stanno arrivando di nuovo dal vivo i ragazzi ospiti del By Night Roma in questo momento, Noise From Nowhere. Ce li abbiamo qua davanti, Emilio Colantonio. Prego, prego. Allora, prima avevamo annunciato una canzone che si chiamava Away, che è un inedito, invece non era quella, avevamo sbagliato noi. Invece adesso sono tornati e ce la cantano finalmente i Noise From Nowhere, una loro canzone, un inedito, sono un trio questa sera perché sono unplugged, ma in realtà loro sono quattro. Questa sera manca con loro il bassista. L'abbiamo ascoltato di prima, sono veramente molto bravi. Quando il nostro mister ci dà l'ok, loro possono partire. Radio Radio By Night Roma presenta i nuovi talenti della notte romana. Ci suonano dal vivo, ci cantano dal vivo. Radio Radio' Grazie a tutti 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 Grazie a tutti